Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi un qualcosa di diverso, infatti trovandomi fuori ho deciso di fermare un po' di persone totalmente a caso così per la strada per fare qualche domanda, qualche quiz in generale a tema Marvel, per sapere così appunto quante persone conoscono questo mondo. E' il primo video di questo genere sul canale al momento di quiz, trovate solamente il cinema quiz che è comunque una roba live con altri creator, ma vediamo come andrà perché non ho ancora registrato effettivamente il quiz e anche a livello di editing sarà qualcosa di diverso, qualcosa di mai fatto e mi sto accecando, ma iniziamo. Siamo qui con Mirko, Mattia, Aurora, Cristian, Gabriele, Antonio. Chi è questo personaggio? Spider-Man. 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 Allora, questa è una forma un po' sbagliata del personaggio, c'è Spider-Man. Che cosa ha in mano? Lo scudo di Capitano America. Lo scudo di Capitano America. Uno scudo. Lo scudo di Capitano America. Uno scudo. Non lo so, Batman, Torre. Lo scudo di Batman, famosissimo utensile. Torre. Qual è il primo film del Marvel Cinematic Universe in ordine di uscita? Captain America e il primo Avenger. Spider-Man, Iron Man. Natale in India, Black Adam. Capitano America. Allora, Spider-Man. Iron Man. Capitano America e il primo Avenger. Aspetta. È il vento, non è tranquillo. Black Adam. Che è un film di... Captain America. Ti poteva andare peggio, potevi dirmi che il primo film era Natale in India. Che film è questo? Avengers Endgame, Avengers Age of Ultron, Justice League, Avengers Infinity War, Pierino torna a scuola. Avengers Infinity War. Avengers Endgame. No? Eh. Avengers Age of Ultron. Avengers Age of Ultron. Il secondo. Avengers Age of Ultron. Avengers Infinity War. Chi è l'interprete di Thanos? Penso questo. Questa. Questa qua. Lui? Lui. Questo. Questo. Quante sono le gemme dell'infinito? Infinite. 3, 6, 10 o 46? 6. 3. 3. Infinite. 6. 10. Questi due personaggi sono lo stesso personaggio? Sì o no? No. Sì. No. Sono lo stesso personaggio? No. Sì? No. Qual è il vero nome di Thor al cinema? Thor Odinson. Donald Blake. Mario. Mark Spector. O Thor Honson? Mark Spector. Mark Spector. Thor e Odinson. Don Blake. La prima. Thor Odinson. Mark Spector. Chi di questi è un personaggio Marvel? Lui. Questo qui. Questo. 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 Questa. E già, siamo all'ultima domanda. Prima di continuare però vi informo che in descrizione trovate i link dei miei social dei profili Instagram dei partecipanti di questo quiz Marvel ma trovate anche il link di Pampling, il sito di t-shirt e articoli nerd dove troverete la t-shirt che state vedendo ora sullo schermo ma ce ne sono davvero tante altre non solo a tema Marvel naturalmente e vi informo che se al momento del pagamento inserirete il codice il pensiero 4 avrete la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel vostro carrello e queste calze vi costeranno 0€ perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. In questo periodo ci sono anche gli sconti estivi che vanno dal 20 al 60%, dipende dal prodotto, cover, tazze, zaini, poster, magliette, felpe e tanto altro, ci sono davvero tantissime cose, tra l'altro fra pochissimo ci saranno 3 nuovi prodotti, non posso dirvi altro ma saranno qualcosa di stupendo. Ma come ho già detto tutti i link sono nella descrizione. Continuiamo con il quiz. Questo personaggio dei fumetti com'è stato trasposto in live action? Penso il primo. Questa. Ah, questo che? Così. Così. Lui, quello al centro. Mi dispiace Aurora, hai perso, sarà per la prossima volta. Sono felice comunque di averlo fatto. Sarà per la prossima volta. Va bene, niente. Grazie. Applaudite, applaudite. Ok, mi dispiace Mirko, hai perso. Grazie comunque di avermi fatto partecipare a questo quiz. Grazie per avermi fatto partecipare. Sarà per la prossima volta. Ok, la prossima volta. Complimenti. Hai vinto. Un saluto. Ciao. Non lo so che si deve. Va bene, va bene. Quindi ragazzi, grazie mille a tutti i partecipanti di questo quiz. Vi ricordo che trovate i loro profili Instagram giù nella descrizione assieme ai link dei miei social, al link di Pampling, codicepensiero4 per supportare il canale e avere un paio di calze gratis. E niente, fatemi sapere con un commento qui sotto se questo genere di format potrebbe interessarvi, quindi magari se volete altri video del genere, altri quiz, non solo Marvel possibilmente. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao.